Sequestro record di metallo prezioso da parte della Guardia di Finanza di Arezzo, oltre 13 kg di argento e 2 di oro per un valore di circa 100.000 euro. Gli uomini delle fiamme gialle arettine li hanno ritrovati a casa di un arettino che è stato denunciato per ricettazione e violazione della nuova disciplina sui metalli preziosi. Tutto è nato da un controllo su strada e i finanzieri hanno fermato l'auto con la guida all'arettino ed in quella occasione sono stati ritrovati a bordo del veicolo 2 kg di oro in lamine di dubbia provenienza e oltre 5.000 euro in contanti. Da qui sono partite le indagini portate avanti dagli uomini della Compagnia della Guardia di Finanza di Arezzo guidata adesso dal capitano Federico Vanni, arrivato recentemente in Toscana al termine di importanti impegni in Sicilia. I successivi approfondimenti hanno permesso di ritrovare nell'abitazione dell'uomo i 13,5 kg di argento tra grani, lamine e verghe, materiale privo di marchi identificativi e orificeria usata. L'arettino è stato così denunciato. L'operazione rientra tra i controlli disposti a livello centrale del Comando Generale che hanno la finalità di individuare i capitali di origine illecita e contrastare ogni forma di condotta in grado di inquinare l'economia legale.